Il 20 dicembre scorso si è tenuto il Consiglio Direttivo Provinciale alla presenza della nuova segreteria. La relazione è stata tenuta dal nuovo segretario coordinatore Mauro Scarim che ha proposto alcune modifiche alla struttura organizzativa interna del sindacato, ricevendo l'approvazione del Direttivo Provinciale. E' stato poi presentato il secondo opuscolo dei quaderni sindacali, curato da Francesco Pornaglia e Luciano Piccoli che tratta di ferie, permessi e tutela della maternità. In conclusione sono seguiti i consueti auguri di buone feste.